vi siete mai chiesti che cosa ci sta dietro uno spot pubblicitario a dire il vero diciamocela tutta questi filmetti sono un po antipatici quando ci spezzano le trasmissioni in tv ma le cose non stanno sempre così abbiamo avuto l'opportunità di crearne uno per la carraro mercedes benz trucks uno spot che vuole parlare della nuova filiale di prada mano alle porte di udini abbiamo pensato di non raccontare le solite cose che si recitano noi siamo il tuo servizio personale qualificato l'uriennale esperienza niente di tutto questo stavolta volevamo raccontare il friuli venezia giulia fatto di storia tradizioni enogastronomia natura unendolo alla realtà della nostra concessionaria significa in pratica stare con la gente friulana ma di che cosa parla questo spot da 30 secondi prima di tutto della famiglia siamo partiti negli anni sessanta con una piccola officina in cadore ed ora eccoci qua nel friuli con la stessa filosofia il piccolo film inizia a pordenone perché siamo entrati proprio dalla porta più ad ovest della regione ed abbiamo colto al volo il bel municipio poi ci siamo spostati a san daniele del friuli ad annusare file di prosciutti che un messo a disposizione quindi via alla volta delle montagne in quell'incantevole borgo medievale che è venzone monumento nazionale ed orgoglio friulano perché ricostruito utilizzando le stesse pietre cadute per il terribile terremoto del 76 immagini con il drone scorci tra le viuzze del paese che profumano di lavanda a proposito di ricostruzione l'attacco dello spot lo vedrete volutamente passa dal bianconero al colore proprio per testimoniare la rinascita friulana dopo quel triste capitolo nella valle del tagliamento siamo quindi scesi più a sud cogliendo al balzo i castelli che dominano la pianura dall'alto delle loro collinette come quello di villalta di fagagna un vero spettacolo questi magnifici manieri che danno la testimonianza di quanta storia ci sia in questa regione era ormai mezzogiorno occasione ghiotta per uno spuntino di frico nei baretti di udine tappa obbligata per il taiut in una delle caratteristiche osterie a proposito di udine che bella città con la loggia i gruppi di giovani i segni lasciati dalla serenissima ad un tiro di schioppo c'è cividale capitale longobarda del friuli ci siamo arrivati quando la luce era giusta per riprendere il quattrocentesco ponte del diavol una rapida visita della città dove abbiamo trovato anche un tipico fogolar e poi via verso sud a palmanova la città dalla forma più straordinaria che abbia mai visto una stella nove punte voluta dei veneziani nel cinquecento per tentare di arginare i turchi poco distante c'è la nostra filiale di pradamano dove ci siamo fermati per fare una piccola parentesi tecnica gironzolando tra i locali in officina e magazzino tra i venditori a curiosare tra i camion e mezzi speciali della mercedes un passaggio veloce in una cantina lì vicino a parlare ancora di motori tra calici di cabernetta e refosco e poi giù di corsa verso la laguna a Lignano con la sua terrazza mare che pare tuffarsi nell'acqua il fiume stella e marano raccontano la storia dei pescatori un ambiente incantevole tra tuffetti cormorani e gazzette ma non è finita qui perché nei giorni successivi siamo andati a trieste dove tirava la bora ed abbiamo colto al volo il bel palazzo comunale in piazza unità d'italia al ritorno l'ultimo passaggio quello della storia antica di aquileia e del suo foro romano il piccolo viaggio finisce qui nell'archeologia avremmo voluto filmare tanti altri angoli della regione ma per il momento ci basta gustiamoci quindi questo sogno frilano in 30 secondi e buon natale a tutti un viaggio nella terra di antiche tradizioni dove i sapori e i profumi autentici si fondono con una storia straordinaria carraro da oltre 40 anni viaggia insieme a te con l'impegno di portarti lontano a bordo del tuo track mercedes benz la tecnologia apre la strada al futuro carraro veicoli industriali anche in friuli venezia giulia mercedes benz e carraro trucks you can trust